Se vuoi di più, chiedi a Fidu. Sarà lui a indicarti la soluzione migliore per realizzare subito i tuoi progetti. Scopri Prestiti Fides. Grazie all'accessione di un quinto del tuo stipendio o della tua pensione, potrai ottenere un importo che può arrivare fino a 80.000 euro. L'attesa è finita. Con Fidu chiedi e ottieni subito il tuo trattamento di fine servizio. Scopri molte altre formule di prestito e finanziamento. Se vuoi di più, chiedi a Fidu. Contatta Fides, chiama il numero verde oppure visita fides spa.com. Fides SPA è un intermediario finanziario del gruppo Banco Desio. Grazie a tutti.